Spero di arrivare a 10 like almeno, e iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Poi non so se ve ne siete accorti, ma ho messo la luminosità al massimo prima di fare questo video, perché insomma non si vedeva niente, cioè proprio non vedevate la mia faccia, è come se mi ero pitturato di nero la faccia. Proprio non si vedeva un cacchio, vabbè, andiamo avanti, vedete il mio gatto? Non si vede. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, e vi dico, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciatemi un bel like, e commentate. Poi c'è stata l'intrusione di mio papà, ma non ci fate caso. Vabbè ragazzi, arriviamo a 10 like e farò la serie di Geometry Dash, e noi ci vediamo nel prossimo video.